Se parliamo ora del settore digital mediale che rappresenta con il 10% la prima voce del commercio mondiale. In Italia coinvolge quasi mezzo milione di imprese pari all'8% del PIL, un comparto trainante per la ripresa al quale il Veneto ha dedicato un super distretto. L'inviato è Francesco Di Mario. Lo sviluppo economico passa sempre più attraverso le tecnologie digitali capaci di inventare nuove forme di impresa o di rivitalizzare quelle tradizionali. Una tendenza che il Veneto ha deciso di assecondare con il metadistretto digital mediale promosso dal Vega, Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia, oltre 800 aziende, 12.000 dipendenti, più le Università di Padova, Verone e Venezia ed altri enti ed associazioni. Telecomunicazione, informatica, audiovisivo, realtà virtuale, comunicazione, alcuni dei settori coinvolti. Il distretto ha sentito la crisi ma meno di altri e continua ad assumere. L'occupazione delle nostre aziende cresce anche in questi terribili momenti che c'è in crisi su tutto il mondo e normalmente crescevano dal 20%, oggi crescono dal 10% ma domani mattina con l'economia che sta migliorando sicuramente cresceranno ed occuperanno ancora gente qualificata di questo settore. Ingegneri informatici, esperti di internet, cinema, tv e grafica 3D, le figure professionali più ricercate. Le aziende del metadistretto sono spesso piccole ma innovative, propongono applicazioni per schermi interattivi, format per web tv, nuovi social network. C'è sicuramente molta voglia di fare queste cose, forse c'è un po' di incomprensione da parte di quelli che sono più senior, che non vedono ancora in queste cose dei reali strumenti di business e pensano che sia ancora un po' un gioco quando in realtà è un'economia serissima. Il metadistretto coinvolge incubatori privati che aiutano i giovani neolaureati a far diventare impresa le loro intuizioni high tech. Ad esempio Maya, apparecchio per la diagnosi precoce delle patologie della macula oppure elementi deformabili per sistemi ottici. Quello che manca è l'ingegneria di impresa, cioè la capacità di ingegnerizzare la formazione dell'impresa e passare dall'idea all'attività imprenditoriale. Questo è quello di fatto di cui ci occupiamo noi.